E' stato ancora una volta il tendone delle feste, il luogo della celebrazione per la ricorrenta del Beato Ferdinando Maria Baciglieri, il parroco di Galeazza Pepoli. Il terremoto del 2012 ha reso insicuro il piazzale adiacente alla Chiesa, anche se sono già ben percepibili i segni del recupero, ormai completo del campanile, e in stato di grande avanzamento per la Chiesa. L'arcivescovo Matteo Zuppi ha presieduto la concelebrazione, attorniato dai numerosi sacerdoti del vicariato di Cento e anche alcuni provenienti dalla Diocesi di Modena. Numerose le sorelle presenti della Congregazione delle Serve di Maria, fondate dal Beato Parroco. In prima fila la neoeletta priora generale, Madre Maria Loretta Sella. Nell'Omelia l'arcivescovo ha messo in evidenza la testimonianza del Beato Ferdinando, che nonostante i sogni di partire missionario, ha messo concretamente la sua vita a servizio del disegno di Dio nel piccolo villaggio di Galeazza Pepoli. La testimonianza di Don Ferdinando Maria, questo fratello che oggi ricordiamo, ci aiuta anche a noi a metterci in gioco, a mettere in gioco il nostro dono per compiere le cose grandi dello spirito. Qualcuno avrebbe pensato, ma io sto a Galeazza, perché cosa posso fare di grande io a Galeazza? Lo dico con molto affetto e con moltissimo rispetto, ma qualche volta uno può dire, vabbè, sto qui, mi occupo del mio piccolo e basta. E invece quante cose ha messo in movimento, restando qui, restando in un punto preciso Don Ferdinando Maria. E dobbiamo dire perché? Perché si è fatto piccolo, perché si è fatto umile e proprio per questo è stato grande. La registrazione integrale dell'Omelia è disponibile nel nostro canale di Youtube. Galeazza, detto ancora l'arcivescovo, non era certo il posto più importante della diocesi di Bologna, ma il Beato Ferdinando l'ha resa grande d'amore. Il campanile è importante, perché non si capisce il cielo senza alzare lo sguardo da un punto. Non si capisce la Chiesa se non c'è qualcuno che mi è diventato caro. La Chiesa non è mai virtuale, non è mai un amore generico. E' fatto di quello, quello lì, quell'altro lì, quelle persone lì che mi sono diventate care. Non si capisce il cielo se non partendo da un punto, da questo campanile. Ma senza l'orizzonte grande, il cuore si chiude e si ammala. E la malattia peggiore è la paura che indebolisce e fa chiudere. Dobbiamo pensare sempre la parrocchia con il suo territorio, con il suo piccolo, ma anche sempre con un cuore grande. E sentirci i missionari, proprio come voleva essere i bacilieri.